Andrea, per te è una grande sorpresa la Serie C, ma ti stai confermando? Sì, è una grande sorpresa, soprattutto per il passato ricente che ho avuto. Due anni fa giocavo in promozione e ritrovarmi qui adesso a giocare in un campionato importante a Mercolio Lega Pro, per me è una grandissima soddisfazione. Ti hanno definito un portiere essenziale? Beh, essenziale mi sembra un parolone, io sono a disposizione del mister, do il 100% sia in allenamento che in partita, quello che chiedo da me stesso sempre è non avere rimpianti, quindi spingere, spingere, spingere in allenamento e non mollare mai in partita. Tra l'altro ci dispiace che domenica scorsa Sporty Level non ha fatto vedere la parata più importante che ha fatto, proprio delle battute iniziali del match. Vabbè, ma se l'ha fatta vedere o non l'ha fatta vedere, a me sinceramente interessa poco, sono contentissimo per i tre imputti della squadra e sono fondamentali in questo momento. Adesso dobbiamo cercare di dare per forza l'antunità domenica a Grosseto, un'altra partita fondamentale per noi. Grazie.